La sterilità colpisce una coppia su quattro e compromette così il progetto di una unione felice e feconda. Finalmente in Italia sono stati rimossi i precedenti limiti legislativi e le tecniche sono evolute ben al di sopra degli standard europei. Nell'80% dei casi, metodologie avanzate possono donare la felicità di un figlio a chi non può averne. Non perdete la speranza, noi possiamo aiutarvi. Grazie a tutti.